I vostri nomi? Dario Matteo Da quanto siete amici? Tanti anni Occhi e croce e dodici E come è nata la vostra passione per il gioco del ponte? Ma da bambino vedevo sfilare tutti questi ragazzi e mi immaginavo anch'io un giorno al posto d'oro Penso di averla sempre avuta, quindi sin dagli anni dell'elementario ho iniziato a seguirlo e poi il prima possibile a farne parte Amici, 364 giorni, il giorno del gioco del ponte, rivali, come la vivete? Ma si vive bene anche perché facendo un ruolo diciamo analogo dalle due parti ci serve anche ogni tanto confrontarci, sfogarci Anche avere appunto un dialogo su un ruolo che è abbastanza simile e darci dei consigli In realtà anche fino all'ultimo momento, quindi anche il giorno stesso del gioco a volte ci sentiamo la mattina Inoltre che per farci in bocca al lupo per appunto confrontarci Durante l'anno avete mai degli scontri riguardo al gioco del ponte? No, possiamo, ci confrontiamo, però grossi scontri non li abbiamo mai avuti A volte ci arrabbiamo, ma non per noi, ma per le cose che accadono Perché il gioco tutto l'anno è sempre in evoluzione, non è mai fermo, mai Quindi in realtà il gioco del ponte possiamo definirlo un collante della vostra amicizia? Certo, certamente, è quello che dovrebbe essere per tutti i pisani Questo niente toglie che ognuno poi fa il tifo e lavora per la propria parte Ma dovrebbe essere qualcosa che rafforza la pisanità Cosa vorreste in più riguardo al gioco e cosa vorreste in meno? Più cura nei dettagli, più persone a vedere il gioco e più passione da parte dei pisani In meno? In meno, meno polemica Concordi? Vuoi aggiungere altre cose? In meno, meno imprevisti Perché purtroppo ogni anno fino all'ultimo secondo ci sono sorprese imprevisti E questo non giova all'organizzazione del gioco E anche meno improvvisazione Un gioco storico deve essere sempre uguale a se stesso, se no non è gioco storico E in più anch'io ho una maggior consapevolezza dei pisani del tesoro che hanno Perché il gioco è qualcosa di unico al mondo E in più anch'io ho una maggior parte